È uno spettacolo forte, uno spettacolo duro perché bisogna iniziare a parlarne in ogni modo possibile perché siamo ancora in una situazione in cui in Italia vengono ammazzate una donna ogni tre giorni quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa. Questo spettacolo parla, è scritto da me, parla e abbraccia tutti gli aspetti della violenza sulle donne da quello psicologico a quello fisico, al revenge porn, ci sono due ragazzi che metteranno in scena una cosa bellissima proprio su questo tema e bisogna assolutamente fare in modo che tutti ne parlino il più possibile perché questa è una piaga che dobbiamo assolutamente sconfiggere.